Siamo in un ring in cui siamo i Pungiball, non c'è uno scontro tra nessuno, siamo solo dei grandi sacchi di sabbia Jody ti stai dando di quello che viene per sabbia? Lo sono già Dai Jody! No ma... E questa è la dimostrazione ragazzi No ma... Ma sei un sacco da prendere a pugni! Jody, dai! L'ha detto lui! L'ha detto lui! È il tuo giochino! È il tuo giochino! Vuoi? La risolviamo su un ring, incontro di box? No, no! Perché io non ho una panca piana dietro la mia postazione come te qualche cosa Ma io voglio farti saltare qualche dente da quella boccuccia! Per il mio intrattenimento! Un po' di sangue che esce per il mio intrattenimento! Sportivamente parlando! Sportivamente parlando! Sportivamente parlando! Sportivamente parlando! Tu lo sai che adesso io ho appena visto un moscerino dentro questa casa E non so se hai visto il grande film di Hitchcock Psycho Eh, sì! Sentiamo! Alla fine di Psycho Lui... Norman Drake, come si chiamava? Non mi cazzo come... I nomi io ho proprio zero Non mi ricordo anche più No, Norman qualcosa Anzi, cioè sto facendo una citazione a Psycho senza ricordarmi il nome del protagonista antagonista Mi sento una merda però allo stesso tempo Non fare il forbito! Non cercare di fare l'acculturato! No, no, ma che acculturato? Io so solo qualche cosa A un certo punto gli si posa sulla mano una mosca Una mosca Una mosca E lui nella sua testa da pazzoide dice Dopo aver tra l'altro fatto tutto quello che ha fatto nel film Non voglio spoilerare Dice io sono una persona... Cioè io non farò del male neanche a questa mosca Ma con una faccia Che è rimasta iconica nella storia del cinema Per essere una faccia posseduta dal male Ok? Che ne sai te Edoardo? Che io in realtà a un certo punto non scoppio Gio, dai, le mosche vanno sulla merda Ma che paragone è? Scusami, dai! Vabbè, dai